Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per ripristino urgente della pavimentazione tra Calenzano e P1 variante in direzione Bologna. In A11 restano code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con l'A1. Qualche problema in Fipili per viabilità esterna che non riceve 4 km di coda tra Cascina e Pisa nord-est verso Pisa in carreggiato opposta 2 km di coda tra Pisa e Leoporto e Pisa nord-est. Nella minoltre coda in uscita a Pisa nord-est per chi proviene da Pisa. Sempre in Fipili per cantieri verso Firenze 2 km di coda stabili tra Empoli ed Empoli est in carreggiato opposta a coda ad un chilometro tra Ginestra ed Empoli est. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!